Musica Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con Linea Diretta. Oggi parliamo di sanità, lo facciamo col dottor Angelo Ramondo, direttore di cardiologia dell'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a lei. Noi partiamo prendendo spunto da un fatto di cronaca. Lunedì il presidente Zaia e l'assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, sono arrivati a Bassano per inaugurare due nuove sale di emodinamica. Dottore, io le chiedo immediatamente che cosa significa questa parola, poi parleremo più diffusamente di cardiologia e di tutte le problematiche connesse al cuore. L'emodinamica è quella branca della cardiologia che consente uno studio invasivo del cuore e dei vasi che irronono il cuore. Invasivo significa, mi scusi se l'interrompo, che non ci si limita a guardare delle fotografie dei raggi, dei raggi X, ma si entra dentro. Si entra attraverso un'arteria, una vena della gamba o del braccio e si va all'interno del cuore dove si vengono fatte delle misurazioni, delle pressioni per capire l'entità di eventuali vizi cardiaci che ci sono. Viene iniettato del mezzo di contrasto che consente di visualizzare le coronarie, le coronarie che sono quei vasi che portano il sangue al muscolo cardiaco per consentire la normale attività quotidiana. Questi due nuovi ambienti che sono stati inaugurati lunedì naturalmente sono dotati di nuovi macchinari all'avanguardia, presumo perché non basta la bravura del personale medico, a volte c'è bisogno anche della tecnologia. Assolutamente sì, sono due apparecchiature di ultimissima generazione con tutta una serie di capacità di analizzare le immagini e quindi di modificarle anche successivamente, di fare delle misurazioni quantitative e ci consente quindi di avere un'esatta situazione di quello che è il problema cardiaco del paziente. Quanto sono diffusi i problemi cardiaci? Beh, è a tutti noto che la principale causa di morte è sicuramente la malattia cardiovascolare e certamente rappresenta un problema non trascurabile nella società moderna che ci vede impegnati con un'attività fisica molto ridotta, uno stress emotivo costante e un impegno lavorativo oltre anche degli stili di vita che inevitabilmente andrebbero modificati. Quanto incidono questi fattori nel rischio di incorrere in problemi cardiaci? Partiamo dallo stress, per esempio, che è una cosa di cui soffrono parecchie persone. Lo stress sicuramente è importante, anche se forse viene troppo enfatizzato, sicuramente questo incide, ma alla base c'è sempre un problema organico che sono legati a alterazioni del colesterolo, il diabete, il diabete è forse la causa principale dell'insorgenza della malattia cardiovascolari, lo stile di vita, una vita sedentaria, l'ipertensione arteriosa e quindi sono tutti elementi che andrebbero combattuti per ridurre il rischio della malattia cardiovascolari. Quindi anche magari con un'alimentazione di un certo tipo, è legato anche a ciò che si mangia a tavola? Assolutamente sì, il sovrappeso ovviamente nella vita quotidiana di oggi rappresenta un problema non trascurabile già nell'età infantile, già ragazzini hanno un'incidenza di obesità che comincia a rappresentare un grosso problema anche in prospettiva futura. L'alimentazione è sicuramente fondamentale, soprattutto per quanto riguarda il contenuto di colesterolo nel tipo di alimentazione che facciamo, i zuccheri, ma soprattutto lo smaltimento di tutto ciò che noi introduciamo, che andrebbe fatto con un'attività fisica che sia più costante e quasi quotidiana. Che consigli senti di dare da questo punto di vista, magari anche per chi non è più giovanissimo, comunque di farsi almeno una passeggiata al giorno? Sì, quando si parla di attività fisica si parla di attività che consente un consumo di energetico, cioè tutto ciò che noi introduciamo dovremo smaltirlo e quindi vuol dire un'attività fisica di un certo tipo, non una semplice passeggiata, una passeggiata a passo svelto, una ciclette almeno 20-30 minuti al giorno, un tapirulan, una corsa, un'attività di palestra, nuoto, cioè un'attività che fa sì che l'organismo consumi energie e non accumuli tutto ciò che viene introdotto con l'alimentazione. C'è un fattore ereditario per i problemi cardiaci? Assolutamente sì, c'è una predisposizione familiare ad alcune cardiopatie, soprattutto la cardiopatia ischemica e soprattutto in alcune forme di alterato metabolismo del colesterolo che poi sono la base della malattia terosclerotica in generale. E qui ovviamente non è soltanto lo stile di vita e l'alimentazione, qui purtroppo a volte bisogna aiutarsi con dei farmaci per abbassare il colesterolo e quindi ridurre l'incidenza di malattie ischemiche, cosette malattie di scarso apporto di sangue a vari organi che vanno dal cuore al rene, al cervello e a quant'altro. Tutte le fasce d'età sono ugualmente a rischio oppure più si va avanti con gli anni più aumenta il pericolo? Ecco, abbiamo notato ultimamente un abbassamento dell'età di comparsa della cardiopatia ischemica, cioè della cardiopatia ischemica si parla di malattia delle coronarie, cioè un restringimento della coronaria che porta a uno scarso apporto di sangue al livello del muscolo cardiaco che è alla base di quella che comunemente viene chiamata angina di petto, angina pectoris, oppure all'infarto miocardico acuto. E' chiaro che più si va avanti con l'età più è facile che questo tipo di malattia si presenti che compaia e che possa dare degli eventi che possono essere anche fatali. Questo significa che da un certo punto in avanti, diciamo da una certa età in poi bisognerebbe effettuare dei controlli con una certa frequenza? Ecco sì, direi di sì, sopra quando si comincia a raggiungere la cosiddetta mezza età... Vale a dire, perché la si inizia a spostare sempre più avanti oramai. Sì, perché l'età media è aumentata, ormai l'età media è intorno ai 82-83 anni, quindi l'età media è quello comunque intorno ai 50 anni, bisognerebbe cominciare a pensare che quantomeno escludere che ci possono essere alcune patologie e quindi fare alcuni accertamenti che non necessariamente devono essere sistematici, ma quantomeno come un punto iniziale per capire come è la situazione. Una volta all'anno almeno, diciamo. Se è necessario una volta all'anno, se un paziente ha un certo tipo di patologia sì, se un paziente fa uno screening iniziale e non trova nulla, non è detto che deve fare un controllo cardiologico una volta all'anno. Senti, una cosa che mi ha molto colpito è il fatto che problemi cardiaci si manifestano anche in sportivi professionisti che però hanno effettuato prima, presumo, visto che a certi livelli ci sono dei controlli medici molto rigorosi, per cui delle analisi molto dettagliate, com'è possibile? Purtroppo questo succede perché purtroppo c'è una forma di patologia coronarica che non è sempre facilmente analizzabile e anche una prova da sforzo che anche gli sportivi fanno a volte non è sufficiente o dirimente a capire la situazione coronarica del paziente. Anche se ha una situazione metabolica nei limiti di norma, purtroppo ci sono dei casi, non sono frequenti e ne abbiamo visti anche noi di soggetti che fanno attività fisica a livello semi-agonistico come il ciclismo, che si trovano in corso di attività fisica con problemi cardiaci abbastanza seri come l'insorgenza di un infarto miocardico acuto. Abbiamo visto anche nei campi da calcio recentemente o di pallavolo, tra l'altro credo che sia uscita una legge che rende obbligatorio il defibrillatore in tutti i campi sportivi. Lì c'è un altro tipo di patologia che non è strettamente di natura coronarica, cioè da malattia coronarica, ma ci sono delle forme di malattie del muscolo cardiaco che si chiamano cosiddette miocardiopatie, cioè malattie intrinseche del muscolo cardiaco che possono dare delle aritmie minacciose e incompatibili con la vita e che richiedono un intervento immediato con un defibrillatore per cercare di salvare la vita. È l'esempio del calciatore che è morto a Pescara, Morosini, che è morto qualche anno fa. È un paziente che aveva una malattia del muscolo cardiaco, che è frequente anche nei soggetti molto giovani, anche ai ragazzini, e lì francamente a volte non è sempre facile fare una valutazione a priori della situazione cardiaca del paziente. Richiederebbe delle competenze molto specifiche. Ci sono però delle avvisaglie che possono metterci sul chi va là. Le avvisaglie sono la comparsa di aritmie, le cosette extrasistoli troppo frequenti. Ce lo spiega esattamente cosa significa? L'extasistolo è un battito prematuro, cioè il cuore ha una sequenza cardiaca abbastanza regolare. A volte c'è la sensazione del battito mancante, in quel caso lì si comincia a parlare di extrasistoli. Se queste sono molto frequenti, tutte le abbiamo, perché le extrasistole sono state definite un'innocente folia del cuore nel momento in cui sono sporadiche. Nel momento in cui queste cominciano ad essere particolarmente frequenti, e allora bisogna fare un approfondimento soprattutto per capire che tipo di aritmia è, perché non tutte le aritmie sono uguali, e in rapporto al tipo di aritmia approfondire la diagnosi per capire se ci troviamo di fronte a un certo tipo di malattia oppure no. E questo soprattutto il rapporto anche all'età del paziente. Un paziente giovane può avere un certo tipo di causa e di conseguenza, un soggetto di età più avanzata ne può avere un'altra e anche lì di conseguenza. La tachicardia è viceversa un altro genere di problemi. La tachicardia è un aspetto fisiologico, è un aumento della frequenza cardiaca. La frequenza cardiaca è normale dai 50 ai 100 batti del minuto. Quando si superano questi valori si comincia a parlare di tachicardia. La tachicardia è un aumento della frequenza cardiaca, come la bradicardia è un abbassamento della frequenza cardiaca. Ci sono tantissime persone che soffrono di tachicardia, generalmente si tratta di un disturbo che non desta preoccupazioni. Dipende dall'entità. Se è una frequenza intorno ai 80-90, no. Se supera i 100, bisogna capire se c'è un problema della tiroide. Bisogna fare degli accertamenti per capire se è un fatto fisiologico, cioè legato alla costituzione del soggetto, oppure è un problema legato a una malattia le cui cause possono essere le più svariate. Non necessariamente cardiache, ma addirittura anche metaboliche, endocrinologiche e quant'altro. Devo chiedere che cosa vuol dire metaboliche, endocrinologiche. Metaboliche legate alla situazione delle ghiandole cardiache che soccendono degli ormoni, che possono essere responsabili di un aumento della pressione cardiaca, un aumento della frequenza cardiaca e quindi dare una sensazione di disagio al paziente. Parliamo dell'infarto, dottore. Quale è l'incidenza, anche quale devo chiedere, sulla popolazione? L'infarto ovviamente è la causa principale di morte, lo sappiamo. No, in generale la morte avviene, la maggioranza dei casi avviene prima dell'ingresso in ospedale, perché il paziente non fa in tempo ad arrivare in ospedale. Attualmente il trattamento dell'infarto miocardico acuto, che rappresenta sicuramente la causa principale di morte, è il trattamento con un allargamento, cioè una disostruzione della coronaria, in sala di emodinamica, durante un esame che si chiama la coronarografia, che è il trattamento di prima scelta. L'incidenza è estremamente variabile, perché dipende dall'età in cui questo si presenta. Ovviamente è molto importante, perché tanto più precoce l'età, tanto più può essere devastante l'infarto che si presenta al paziente stesso. È raccomandabile alle persone che hanno un dolore toracico che consiste in una sensazione di costrizione, senso di peso, retro-sternale all'interno dello sterno, che facciano riferimento immediatamente al pronto soccorso, perché il tempo è fondamentale per salvare la vita al paziente. Aprendo la coronaria si salva la vita, si salva muscolo cardiaco, e la sopravvivenza del paziente migliora non solo immediata, ma anche a distanza. Molte persone non vanno volentieri in ospedale, ovviamente comprensibilmente, per cui al primo manifestarsi di qualche disturbo, come può essere questa fetta di cui lei parlava, si sente dire non è niente, adesso mi passa. Quando invece effettivamente bisogna preoccuparsi? Come si fa a soppesare la gravità della situazione? Il dolore toracico può essere di varia origine e di vario tipo. Il dolore cardiaco in senso stretto, quello tipico coronarico, c'è da infarto, è un dolore di senso di peso particolarmente intenso, un senso di costruzione, un senso di peso dietro lo sterno. Il dolore cardiaco in genere ha una durata, nell'angina di petto, ma ha una durata di 5-10 minuti. Quando il dolore supera un quarto d'ora, 20 minuti, il problema comincia ad essere particolarmente importante, e allora va assolutamente approfondito l'origine di questo dolore. Certo, se si parla di dolore puntorio, toracico, dolori cosetti intercostali, dolori migranti, ovviamente questi vanno un po' soppesati in maniera molto attenta, perché altrimenti si fa un eccesso di allarmismo, che ovviamente non è il caso che questo venga fatto. E poi associato ad altri sintomi, credo, comunque, il formicolio al braccio. Assolutamente, il dolore toracico di tipo ischemico, da cardiopatia ischemica, cioè da pre-infartuale, è un dolore localizzato, come ho detto, si può associare a una irradiazione, irradiazione che può essere alla spalla, braccio sinistro, può essere al giugolo, alla mandibola, si associa a una sensazione di malessere particolarmente intenso, sudorazione, si può avere nausea, cioè c'è un corteo di sintomi che non sempre sono presenti, a volte ci sono e quindi anche questi vanno presi in considerazione. Sentivo anche un abbassamento della vista, per così dire, più difficoltà... L'abbassamento della vista può essere legato a un fatto di potenzione, un abbassamento della pressione che si può avere in corso di infarto, può avere un abbassamento della frequenza cardiaca, quindi si abbassa la frequenza cardiaca, e questo può succedere, in realtà l'infarto, in senso stretto, non va a incidere sulla capacità visiva del soggetto. Il tempo è tutto in questi casi. Dottore, qual è il lasso di tempo e tra il quale bisogna intervenire? Allora, l'ideale sarebbe fare l'intervento entro 60-90 minuti dall'insorgenza del dolore, per poter salvare più muscolo cardiaco possibile. È chiaro che se una coronaria si chiude, si crea un danno, una morte del muscolo cardiaco. meno lo facciamo morire, più salviamo muscolo, più miglioriamo la sopravvivenza e le prospettive di vita del paziente. Perché quindi il muscolo potrebbe essere compromesso definitivamente, mi dice. No, l'infarto è morte del muscolo, dipende dall'entità del muscolo. L'etimologia dell'infarto vuol dire morte del muscolo. Dipende dall'entità, da quante fibre muscolari muoiono. Ho capito. Allora, le possono essere in quantità molto limitate e quindi la capacità contrattile del cuore resta normale e uno riprende a fare una vita perfettamente normale. Ma se il muscolo muore in quantità particolarmente importanti, la capacità contrattile di questo cuore diminuisce, si va incontro a quello che si chiama lo scompenso cardiaco, possono comparire aritmie minacciose, come sono le cosiddette extrasistoli, ma in numero talmente alto che può dare una compromissione della capacità del cuore di fare le sue funzioni e quindi creare grossi problemi alla qualità della vita del paziente. Dottore, lei ha detto al massimo un'ora e mezza. Questo significa, sentivo dire anche durante l'inaugurazione che c'è stata lunedì, che se l'ambulanza non può arrivare subito, tanto vale muoversi, farsi accompagnare immediatamente in ospedale. Farsi accompagnare in ospedale, ma non venirci da solo. Perché può essere pericoloso. Perché può essere pericoloso per se stessi, ma anche per gli altri. La cardiologia interventistica ha anche altri campi di intervento. Assolutamente sì. Oltre a fare questa dilatazione della coronaria con un palloncino, che è quello che ci consente di riaprire la coronaria, ma anche di trattare le coronarie che sono ristrette per il processo atrio-sclerotico, legato a tutti quei fattori di cui abbiamo parlato prima, possiamo dilatare queste coronarie con un palloncino, mettere all'interno di queste coronarie una protesi che si chiama stent, che è una volgarmente detta retina o gabbietta metallica, la quale protesi endovascolare hanno adesso sulla superficie un farmaco che ha lo scopo e la finalità di ridurre il rischio che la malattia si ripresenti nello stesso punto in cui era presente il restringimento. Oltre a questi tipi di interventi, che rappresentano la maggioranza, perché la cardiopatia epischemica è la cardiopatia più frequente che noi abbiamo in ospedale, c'è la possibilità di trattare anche altre strutture del cuore, che sono le valvole cardiache, alcune valvole si restringono, soprattutto la valvola mitrale, è una delle valvole, ma soprattutto la valvola ortica, la stenosea ortica è una patologia degenerativa del soggetto anziano, cioè la valvola progressivamente si calcifica, i lembi valvolari non si aprono in maniera... Io le chiedo proprio una cosa semplicissima, la valvola che cosa è, per chi non lo sapesse? Qui ci vorrebbe un cuore per far capire come funziona il cuore, ma la valvola è una componente del cuore, che è all'interno del cuore, che ha la funzione di far fluire il sangue in un unico senso, cioè farlo andare soltanto in avanti e non farlo tornare indietro, sia la valvola mitrale che la valvola ortica, regolando l'attività cardiaca a seconda del ritmo cardiaco. Siccome le cavità cardiache sono quattro, sono due atri e due ventricoli, bisogna che questo flusso all'interno del cuore sia regolamentato sia dal ritmo, ma anche da una normale apertura e chiusura di queste valvole. Quando queste non funzionano, ovviamente il cuore va incontro a dei problemi, che sono la mancanza di respiro, lo scompenso, le ritmie cardiache, e quindi questo rappresentano un grosso problema limitante alla qualità della vita del paziente. Lì come si interviene quindi? Come si ripristina il flusso? Quando ci sono questi restringimenti delle valvole, sia dalla mitrale che dalla ortica, che dalla valvola polmonare, anche qui possiamo intervenire con delle tecniche che sono una dilatazione delle valvole col palloncino, per esempio nella stenosi mitralica, che è una malattia da noi ormai non più frequente, perché era molto più frequente negli anni scorsi, quando la malattia reumatica era molto frequente, adesso la troviamo più nei soggetti, nelle persone extracomunitari, in cui la qualità della vita nell'età infantile non era delle ottimali, e questa inadeguatezza della vita portava delle forme di malattia reumatica che interessava il cuore e le valvole, questa valvola si restringe e noi possiamo intervenire con un pallone allargandola e nella mitrale rappresenta il trattamento di prima scelta. Poi viene anche l'intervento cardiochirurgico di sostituzione della valvola. L'altra valvola è la valvola ortica, la valvola ortica invece è una valvola ortica più frequente nel soggetto anziano. Come dicevo prima, nel soggetto anziano queste valvole tendono a diventare calcifiche, si irrigidiscono, non si aprono più in maniera adeguata e poi per cui non consentono al sangue di uscire in maniera adeguata, per cui il cuore tende a ingrossarsi, tende a dilatarsi e a scompensarsi. E in quel caso si interviene nello stesso modo? Anche qui, quando l'intervento di prima scelta sarebbe la sostituzione della valvola ortica che fa il cardiochirurgo. Ma quando questa è impossibile perché il paziente è inoperabile o ha un alto rischio operatorio, noi possiamo intervenire, prima di tutto dilatando la valvola con un palloncino, quindi consentendo a questa valvola di aprirsi di più e di snellire il lavoro. In altri casi attualmente si può mettere sempre attraverso un'arteria della gamba una valvola artificiale che è montata su un pallone oppure è all'interno di un catetere e viene messa all'interno del cuore e va a schiacciare quella malata ripristinando una normale funzione della attività cardiaca. Sono interventi difficili? Richiedono ovviamente delle competenze e delle conoscenze, sicuramente non sono all'ordine del giorno da fare dappertutto, ma certamente richiede una certa manualità. Lei prima ha detto che gli extracomunitari possono soffrire di più di certi disturbi, questo significa che l'innalzamento della vita media, del tenore di vita media che abbiamo oggi in Italia ha diminuito quindi i problemi legati della malattia reumatica la malattia reumatica che portava a un coinvolgimento delle valvole cardiache è decisamente diminuito e questo grazie al miglioramento della qualità della vita. Come incide il diabete invece nei problemi di cuore? Ecco, paradossalmente mentre c'è una tendenza alla diminuzione della patologia cardiovascolare in generale c'è un aumento del diabete però il diabete comporta un incremento delle malattie cardiovascolari in generale ma non solo quelle cardiache e coronariche. ma anche di altri distretti carotidi, arti inferiori, gamba e quant'altro. E nell'ambito della patologia diabetica uno dei problemi che si può avere è quello di avere uno scarso apporto di sangue negli arti inferiori, gamba e piede che a volte porta alla formazione di gangrene, la necessità di amputazioni di parte del piede e attualmente anche in questo tipo di patologia c'è la possibilità di fare un trattamento con palloncino di vasi arteriosi periferici che consentono di portare una maggiore quantità di sangue nel distretto degli arti inferiori quindi migliorare la ossigenazione ridurre questo scarso apporto di sangue e ridurre le aree che vanno incontro a ischemia cioè scarso apporto di sangue e a fenomeni di necrosi che sono poi la base delle amputazioni. Questo ovviamente facendo così il paziente può avere un giovamento nel eliminare la possibilità di amputare una parte del piede o dell'arto o di ridurre il più possibile l'entità dell'amputazione. Chi soffre di diabete quindi deve sottoporsi a controlli più frequentemente? Il diabete deve fare un controllo assolutamente sistematico dal diabetologo il quale è l'unico competente poi a fare un certo tipo di valutazioni e se ci sono coinvolgimenti in natura cardiovascolare coinvolge il cardiologo clinico in generale il cardiologo interventista in particolare a seconda delle problematiche che il paziente presenta sia un problema coronarico un problema vascolare periferico o anche un problema carotideo perché anche i restringimenti delle carotidi possono essere trattati attualmente non solo con l'intervento di chirurgia quindi con apertura eccetera ma anche lì con l'impianto di una protesi che si chiama stent che viene fatta sempre attraverso l'introduzione di un catetere da un'arteria della gamba che cos'è l'embolia? l'embolia è la dislocazione di materiale trombotico che si forma in qualche distretto o cardiaco o periferico e che va a localizzarsi in qualche organo quello più drammatico è l'embolia cerebrale cioè il famoso coagulo che si forma all'interno o di una cavità cardiaca può prendere una via un'arteria qualsiasi e può dare un'embolia cerebrale un'embolia cardiaca intestinale renale e il cardioembolismo cioè l'embolia di origine cardiaca è abbastanza frequente quindi diciamo che il sangue si coagula non scorre più in maniera corretta se cerco di tradurlo in maniera proprio terra terra dottore e per cui non arriva il sangue in determinate zone no quando il sangue e quando il sangue fa fatica a circolare tende a ristagnare quando ristagna c'è la possibilità che si formano dei coaguli questi coaguli possono dislocarsi e quindi dare l'embolia l'embolia è la dislocazione di un trombo formatosi in qualche parte dell'organismo dal punto di origine al punto di arrivo che può essere cerebrale come dicevo ma può essere anche di altri qualche siasi altro organo qui da quando si manifesta questo disturbo innanzitutto come lo si riconosce e quali sono i tempi di intervento anche qui ecco l'embolia è particolarmente devastante nel senso che può dare un deficit motorio particolarmente può dare può dare un'emiplegia cioè una paralisi completa di metà del corpo può dare fenomeni di disartria incapacità di esprimersi si può manifestare in diverse maniere e questi possono dare dei reliquati che sono definitivi se arriva un'embolia bisogna andare immediatamente anche qui parliamo di un quarto d'ora si manifesta tutta una serie di perché con alcune forme di embolia si possono con l'ictus cerebrale si possono fare dei trattamenti di trombolisi cioè di somministrazione di farmaco che sciolgono il trombo e qui a Bassano abbiamo l'unità ictus per questo tipo di problema ma ci sono soprattutto le forme di prevenzione di queste embolie una delle cause più frequenti dell'embolia cerebrale è rappresentata dalla fibrillazione atriale la fibrillazione atriale la fibrillazione atriale è un'aritmia cardiaca l'aritmia cardiaca più frequente che è caratterizzata da una frequenza anomala è altissima di una struttura cardiaca che è l'atrio per cui il sangue tende a ristagnare all'interno di questo atrio all'interno di questo atrio si possono formare dei coaguli e questi possono dare fenomeni di embolia tant'è che il trattamento del paziente con la fibrillazione atriale è la terapia anticoagulante anche in questo caso quindi all'insorgere dei primi sintomi bisogna immediatamente per quanto sia difficile per certi versi in alcuni casi riconoscerli purtroppo sì ci sono dei limiti a volte si sottovaluta però un deficit motorio un deficit nell'eloquio un deficit visivo non può far pensare che sia un fatto banale deve invece far indurre ad avere un atteggiamento precauzionale dottore noi siamo quasi al termine del nostro appuntamento e torniamo all'inaugurazione delle due nuove sale del reparto di cardiologia a Bassano di emodinamica quanto è una curiosità che le voglio chiedere quanto è progredita cardiologia in questi anni dal punto di vista delle conoscenze della tecnologia la cardiologia ha avuto negli ultimi 15-20 anni un'evoluzione notevole in termini di risoluzione dei problemi non tanto la parte diagnostica sicuramente ma quanto la cardiologia interventistica è tutto ciò di cui abbiamo parlato anche è gran parte cardiologia interventistica tant'è che tornando al problema della fibrillazione adriale in alcuni pazienti che non possono fare la terapia anticoagulante la cardiologia interventistica negli ultimi anni ha consentito di ridurre notevolmente il rischio di embolia cerebrale andando a occludere all'interno del cuore una struttura dove nel 90% dei casi si formano quei trombi che danno l'embolia cerebrale così come il riconoscimento di alcuni difetti cardiaci faccio l'esempio di Cassano per fare un esempio che è molto noto il calciatore il calciatore che ha avuto l'embolia cerebrale ma era legata questa embolia cerebrale alla persistenza di un forellino anzi di una valvola che è rimasta aperta dopo la nascita e che chiudendo quella si può ridurre il rischio di avere un'embolia cerebrale quindi la cardiologia interventista e sta ultimamente progredendo ha avuto un impulso notevole migliorando il trattamento delle patologie cardiovascolari e consentendo una migliore qualità della vita dei pazienti e una sopravvivenza molto più a lungo tant'è che la vita media è notevolmente allungata allungata io ricordo che 50 anni fa parlare di trapianto di cuore poteva sembrare ancora fantascienza mentre oggi si tratta di un intervento non dicevo di routine però qualcosa che gli inizia ad andargli vicino ma ultima diciamo rivoluzione della cardiologia interventistica è l'introduzione di quelle retine di cui parlavamo prima che si mettono sulle coronarie che una volta messe e una volta rimanevano lì adesso ci sono quelli che sono completamente riassorbibili cioè una volta messi nel giro di due anni vengono riassorbiti e non sono più presenti all'interno della coronaria bene con questa novità lei cosa si aspetta per i prossimi anni dalla ricerca? oddio per quanto riguarda l'ideale adesso non parlo di cardiologia sarebbe cercare di migliorare la terapia di tumori cardiasi che già hanno avuto un grosso un grosso impatto da un punto di vista cardiovascolare francamente le evoluzioni sono state talmente tante che aspettarsi ulteriori francamente oramai ci siamo no ecco ci siamo avremo sicuramente qualche cosa nuova soprattutto per alcune patologie valvolari però francamente per il momento andarsi a aspettare ulteriori evoluzioni insomma diciamo dei miglioramenti lievi che saranno minimi insomma certo comunque è sempre necessario assolutamente allora noi ringraziamo il dottore Angelo Ramondo direttore del reparto di cardiologia dell'ospedale di San Bassiano le auguriamo anche buon lavoro dottore grazie per essere qui con noi e grazie a tutti grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento di giornata con i programmi di Rete Veneta grazie a tutti